Riccardo Magherini è morto mentre era a terra e chiedeva aiuto e diceva sto morendo. I carabinieri gli continuavano a tirare calci mentre lui era per terra e in manette. Quei carabinieri sono prima stati condannati da due gradi di giudizio e poi assolti perché la Cassazione ha detto che il fatto non costituisce reato. La famiglia Magherini ora vuole ricorrere alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo e il papà ha detto che è disposto a vendersi tutto per portare avanti questa battaglia. Ma io non credo che sia giusto perché questa battaglia è una battaglia per la giustizia ed è per tutti noi e quindi tutti noi dobbiamo contribuire nei modi in cui possiamo. Anche pochi euro possono essere fondamentali per questa battaglia e quindi ti chiedo di poter condividere la campagna, di fare il passaparola con i tuoi amici e di esserci anche tu al fianco della famiglia Magherini. Grazie.